Per tornare alla normalità, ogni scelta conta. Puoi andare in un locale, in un negozio, o fare una passeggiata, ma indossa la mascherina. Puoi incontrare i tuoi amici, ma tieni la distanza di almeno un metro. Puoi andare al palco, ma evita gli assembramenti. Riprendiamoci il gusto del futuro. L'Italia riapre. L'Italia riapre.